E' una piacevolissima sorpresa per me, ho conosciuto Paolo Arrigoni i primi giorni del Senato, bravo, 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 molto bravo! Grazie Nuzio, buonasera Albino, Paloraio Renzi ha detto che il prossimo anno lui diminuisce le tasse di 18 miliardi di euro, è tutta una balla, il celtrone Parolario Fiorentino cerca di imbrogliare la gente, la manovra finanziaria in realtà è un sacco di tasse, di tagli lineari, alla regione 4 miliardi, alle province 1 miliardo, ai comuni 2 miliardi e poi ha messo le tasse sulle montagne, ha alzato l'IVA del pellet dal 10 al 22%, ha messo l'IMU sui terreni agricoli, ha tolto le agevolazioni fiscali su GPL e gasolio e poi tra le tante cose scandalose ne voglio citare due, da ancora 200 milioni all'anno per l'accoglienza degli immigrati quando abbiamo le nostre famiglie che non arrivano a fine mese. Infine, dopo che Roma da sette anni percepisce 420 milioni all'anno pagati da tutti voi, dal prossimo anno altri 110 milioni di euro a Roma capitale e questa è una vergogna, date forza alla Lega che farà cadere il parolaio di Firenze. Grazie a tutti e buon 2015!